Allora Sabrina ci mette una bellissima foto della zanzara tigre terrorizzata perché secondo lei è un pappataccio, occhio, zanzara tigre, non sto lì a fare la tassonomia degli insetti perché non è il mio mestiere, io studio i comportamenti degli insetti ma non le speciazioni, ma la tigre, hai presente che ha le strisce bianche? Per quello, anzi ha strisce bianche, quella è la zebra, ma ha queste strisce spesso bianche, altre in giro, per quello quel tipo di insetto si chiama zanzara tigre, non è un pappataccio, meno male, ma è più rompiscatole del pappataccio, bacioni!